Nelle puntate precedenti Io, Holden Cross, ti nomino Cavaliere della Legione di Ossidiana La Legione di Ferro stava per sparire Al loro comandante, Stone Serviva un esercito E Holden Cross Mandò mi Era un legionario di ferro Mi fidavo di lui L'inferno Scese su di noi A Valkenheim stava già cadendo la neve Ma andammo comunque Io sono Holden Cross Come comandante Della vanguardia dell'Ossidiana Aspetta a me Fare strada Ok ragazzi Salve a tutti Da PierreDarkNight91 Ci ritroviamo Nella quarta puntata Su For Honor Attenzione eh Che sto facendo già delle cappellate assurde E oggi Andremo avanti Nella storia Ovviamente Senza morire Almeno ci proveremo Oggi ci sono I vichinghi Che ci stanno facendo il culo Attualmente Ma noi Cercheremo Ne siete troppi Ne siete troppi Ne siete troppi Ok Ok Devo arrivare lassù Vai Bene Benissimo Ok Va bene Andiamo così Benissimo Vai Io adesso me ne sono accorto Che non stiamo utilizzando il nostro personaggio Ma stiamo utilizzando Il capo E quindi Adesso Arrivederci Ok Andiamo avanti Da questa parte Da questa parte Eccoli Eccoli Ok Impariamo Mi raccomando ragazzi Lasciate un bel like Se L'appuntamento di oggi Vi è piaciuto Se vi piace Cose del genere Noi Ovviamente Cercheremo di finire La modalità storia E di tenere a bada Questi Vichinghi Maledetti Holden Cross Stiamo utilizzando Holden Cross Holden Cross Che è Davvero molto Ma molto Potente Però Poco agile Questo c'è da dire È ok Andiamo avanti L'entrata per Falkenheim Ciao Ah ok Oh Attenzione Andiamo da questa parte Eccolo lì Attenzione Per parare Fai concidere La direzione Della tua guardia Con quella Dell'attacco del nemico E sferra un attacco pesante Affinché Oppure aspetta Finché L'icona dell'attacco nemico Non lampeggia Ok Attenzione Che ci possono buttare giù Ok La parata di Holden Cross Credibile Mamma mia E il vichingo Ci saluta Guardalo come va Guardalo come va Andiamo avanti Casino 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 La fine del mondo Ragazzi La fine del mondo Oh oh Attenzione Mi sa che ci lascia le penne Holden Cross La catapulta La catapulta La catapulta Vieni Vieni sotto Vieni Ok Parata Ottima Ok Mamma mia L'ha schivata Signori E lo salutiamo Con Davvero Tanto calore Andiamo Vai vai Holden Sfasciamo qui Ci può dare sempre qualcosa No nulla Ah ecco ok Non era un buon piano Ma non c'era altro modo Oddio Oh tu chi sei Non me ne sono proprio accorto Non me ne sono proprio accorto Attenzione Para Vichingo maledetto Cosa 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 è successo Dai 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 Crepa subito Ok Dai dai Esci da qui Ok Vieni 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 qui vieni Amico Amico Fritz Vieni amico Fritz Oh para Benissimo Holden Ok E andiamo Mamma mia Mamma mia Guarda Guarda Andiamo da questa parte Distruggiamo Dobbiamo Distruggere Ok Attenzione Ci attacca Vichingo maledetto Ok Mamma mia Le sta prendendo Le sta prendendo Arrivederci pure a te Dobbiamo distruggere Le catapulte Perché stanno Facendo davvero Delle cose Tu cosa vuoi Arrivederci Ok vai E salutiamo Una catapulta Dobbiamo distruggere Anche la seconda E devo capire Dove andare Da questa parte Andiamo Veloci ragazzi Eccoci qua Sì sì Certo Come no Certo Certo Ok Mamma mia Holden è fortissimo C'è da dire C'è da dire Aia Aia Maledetto Ok Facciamo fuori Anche questo E incomincia Ad essere Ad essere Che freddo Un bel po' Difficile Devo ammetterlo Attenzione Parata Per parare E fai concidere La direzione Della tua guardia Con quella Dell'attacco nemico E sferra Un attacco pesante Aspetta Finché l'icona Dell'attacco nemico Non lampeggia Lo abbiamo già letto Perché me lo dici Non l'ho capita Questa cosa Attenzione Perché Questo è davvero Molto Potente Ok Parate Poi Ne prendiamo una Mamma mia Arrivederci E grazie Oh Oddio Ragazzi No No Qui sopra No Oddio Porca vacca Qua faccio game move Mamma mia Questa è potente Questa è forte Oddio No No Qui sopra No Qui sopra No Mamma mia Dai Oddio Mi saluti La signora Mi saluti La signora Ok Salutiamo Il Vichingo Attualmente In riposo E adesso Andiamo Direttamente Qui sopra Andiamo A rompere Quella catapulta Almeno Penso Dove si va Dobbiamo salire Lì sopra Quindi Andiamo da qui Dove cacchio si va Da qua Da qua Da qua Che cos'è lì sopra Cosa sta succedendo Come ci arrivo Lì sopra Ciò che ci distingue Dai vichinghi Ok Tecnologia Grazie ad essa Avremmo superato Le porte di Valkenheim E le loro difese Impenetrabili Senza alcun problema Niente di che Andiamo da qui Eh oggi sto Sbagliando Parecchio Vai vai Da questa parte Dovevo salire Da qui Dai Da qui Aia Andiamo un po' Vai Cosa No non l'ho capita Questa Qui no Dove cacchio Da questa parte No Dove dobbiamo andare Ragazzi Quel ponte Che ci fa questa qui Andiamo da qui Andiamo da qui No Ah forse Forse No Quindi Per forza Dove c'è quel casino Eh mi sa proprio Eh mi sa proprio di si Attenzione Ce n'è uno qui Mi sa che l'abbiamo già fatto Vediamo Ok Ok Andiamo Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Oggi Avevano i numeri Noi La tecnologia Sì Vai Vai Arrivederci Buono così Subito Subito Lo facciamo fuori Abbassa Il ponte Levatoio Ok Lo abbassiamo subito Se ce la facciamo Vai Abbassiamo Abbassiamo Sfascia questo Ok Va benissimo Ok Abbassiamo Oh Cosa sei tu Da dove vieni Ah Dai fai qualcosa tu Quello sta a guardare Cosa è incredibile Cosa volete Dai Eh dai Sfascia Sfascia sto ponte Fai subito Fai subito Fai subito Ok No Maledetto Ah E' tosto E' tosto Onnaggia Ragazzi E' tostissimo E' lento Eh Holden Cross E' lento Stanno questi Che rompono Ma proprio In una maniera Assurda Oh Oh Mamma mia Mamma mia Ok Andiamo a rompere Un po' Quell'altro Dai Questo cosa vuole Tu cosa vuoi Dai Dai Vai via pure tu Hanno chiuso la porta Hanno chiuso la porta Mamma mia Dai dai Fatemi Dai Ma fa abbassare Ecco Ce l'abbiamo fatta Vai 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 abbassa 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 Il ponte Elevatoio Ok Ce l'abbiamo fatta Eccoci qua ragazzi Eccola lì Valkyria E' Valkyria Ah Mi sono dimenticato No non è Valkyria Ah Aspetta Come si chiama Come si chiama Non potevamo lasciare degli uomini a guardia dei prigionieri Oddio Oh Va bene Mi sono dimenticato Come si chiama Cosa Vai Fermo Attenzione Fermo Signora Questa belva ha ucciso 40 soldate Compreso Davis Sai come distinguere un predatore da una preda? Non si può A meno che tu non li veda lottare Ok Non lo ammazza Secondo me si 40 Molto bene Credevo che la sua selezione se le metasse a noi Va bene Va bene Ok Finiamo Anche questa parte Del capitolo 1 Ovviamente Mi sono dimenticato come si chiama Quella guerriera Poi dopo Mentre lo edito Dico Ah è vero si chiama così Perché non mi viene adesso Va bene Se questo appuntamento vi è piaciuto I miei fail Oggi davvero sono tanti Ho fatto due volte Due cavolate Vabbè Non ci fate caso Lasciate un bel like Condividete Commentate Vediamo se ci dice qualcosa prima Ecco Dovevamo raggiungere la fortezza di Sverngard Prima che i vichinghi potessero reagire Ok Ma alla grande rupe che divide in due la vallata Trovammo la strada sbarrata Fortunatamente avevamo una pacificatrice Merci Tra le nostre fila Ok Va benissimo signori Abbiamo fatto comunque Ossidiana 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 E invece io dicevo Valkyria Scusate ho fatto Piccoli fail Perché sto giocando In multiplayer E sto cercando di utilizzare anche la Valkyria Vabbè ma a parte questo che vedremo Ovviamente le prossime puntate anche su multiplayer Quindi vi farò vedere nuovi personaggi Sto livellando e così via Vi ripeto Lasciate un bel like Condividete e commentate Un bacione a tutti Da Pierre Dark Knight 91 Attenzione a questo tiro Deviazione fuori Attenzione Le ali quasi quasi Se prende con le ali ragazzi Rodolfo Vera La mette in mezzo Il colpo di testa La palla rimane lì E Nicolino la para Attenzione a Sanchez Attenzione a Sanchez Nell'area di rigore Fa tutto da solo Il passaggio E la chiusura bellissima Del numero 2 Dell'Ellas Verona